Quattro mesi alle elezioni, i primi sondaggi sulle prospettive di voto. Guinza non solo applausi, le preoccupazioni dei residenti. Cambia il mercato di Pesero, gli alimentari accorpati agli altri ambulanti. Da RSA a Ospedale, ecco Cotignola 2 a Villa Fastigi. Trattori, ora la protesta si sposta al casello di Fano. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di martedì 13 di febbraio che apriamo con la politica perché mancano meno di quattro mesi alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. E cominciano a trapelare i primi sondaggi sulle intenzioni di voto e anche sul consenso in merito all'amministrazione Ricci che va verso il congedo. Un servizio che avevamo già anticipato questa mattina a margine della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e che ora vi riproponiamo in apertura di Tg. Matteo Ricci si avvia gli ultimi mesi della sua decennale esperienza da sindaco di Pesero con un gradimento molto alto riferito all'operato del suo secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio reperito da Rossini TV ed effettuato da un'agenzia di indagine in merito all'analisi pre-elettorale sul consenso locale e gli orientamenti di voto in vista della chiamata alle urne di giugno. Dal report emerge che il 73% del campione di sondaggio esaminato esprime un giudizio di positiva efficacia sulle politiche del sindaco in un dato di fatto analogo al 71% riferito all'operato della globalità dell'amministrazione comunale. Un gradimento che secondo le rilevazioni risulta crescente negli ultimi sette anni rispetto al 61% di giudizi precedenti raccolti a febbraio 2017. Il report elaborato nel gennaio 2024 è precedente al pronunciamento del Consiglio dei Ministri che ha allargato la possibilità di terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti, escludendo di fatto dalla proroga quelli dalla demografia superiore, appunto come Pesero. Secondo il sondaggio, l'ipotesi di votare Ricci per un terzo mandato sarebbe però stata gradita dal 57% della platea locale esaminata. Andando a scannerizzare le varie politiche messe in atto dalla Giunta Ricci, il podio di quelle più gradite dai cittadini riguardano eventi culturali, promozione turistica della città e raccolta dei rifiuti. Nel podio negativo nettamente in testa la manutenzione delle strade, seguita dalla gestione del traffico di viabilità e trasporti e la riduzione delle tasse comunali e tariffe dei servizi. Il sondaggio esamina poi il sentiment politico in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Per la partita sindaco di Pesero il 48% giudica la coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle come la più adatta ad amministrare la città per i prossimi 5 anni. Segue la coalizione di centrodestra per il 37%, mentre un 15% punta sull'iste civiche indipendenti dai partiti. Cifre diverse da quello che invece la prospettiva di voto politico nazionale con Fratelli d'Italia in testa al 27,2% tallonato dal Partito Democratico al 26,5%. Opposte fazioni ma entrambi in crescita rispetto al 2022. Più marcata quella del partito di Giorgia Meloni con un più 2,2%, più contenuta ad un 1% quella dei Dem. Cresce anche Forza Italia, in calo il consenso di Movimento 5 Stelle, Lega, Più Europa, Azione e Italia Viva. Non solo celebrazioni, il via al cantiere da 120 milioni per avviare il ripristino del transito sulla Galleria della Guinza apre anche la prospettiva di anni di lavori che preoccupano i residenti dei territori di Mercatello sul Metauro e aree limitrofe. Noi siamo preoccupati innanzitutto per il fatto che si mettono di nuovo le mani sulla galleria come avvenne 35 anni fa. Una galleria che come voi avete avuto modo di vedere è scollegata sia lato Umbria che lato Marche. Quindi si sono buttati dei soldi 35 anni fa, parecchi soldi perché a suo tempo si parlava di 350 miliardi di vecchie lire e adesso si andranno a buttare altri 120 milioni sembra su una galleria che comunque rimarrà scollegata. Quindi questa è la prima questione che noi vorremmo porre nel senso che bisognerebbe operare per lotti funzionali. Noi avremmo preferito che venisse realizzato un lotto verso Fermiliano, lì a Canavaccio e salire con la superstrada esistente in maniera tale che i cittadini dell'Alta Valle avessero un servizio perché noi abbiamo necessità più che altro di andare verso la costa dove c'è l'ospedale, c'è le scuole, ci sono le strutture. Chiaramente è importante anche il collegamento con l'Umbria però al momento a noi serve l'altro. Quindi per noi è un'opera che purtroppo rischia, perché poi a livello politico le cose sono dinamiche quindi cambiano di continuo, rischia di fare la fine di quell'altra, cioè si buttano dei soldi, si apre poi rimane lì chissà per quanti anni, perché abbiamo parlato anche stamattina con il commissario lui stesso ha detto che ha fatto i progetti però poi questi devono essere finanziati. Questa galleria qua, ad una canna sola, a senso unico, Marche Umbria, dovrà necessariamente restare in questo modo finché non si farà la seconda canna. La seconda canna è ottimisticamente prevista per il 2035, quindi noi avremo una situazione precaria almeno fino al 2035 e questo è una cosa che ci preoccupa molto. Ed ora ci occupiamo delle notizie di Pesaro dove questa mattina, giornata di martedì, di mercato cittadino c'è stata l'ultima apparizione delle attività degli ambulanti dei generi alimentari in Piazzale Bachelet per capirci nella zona compresa tra Tribunale e Ferrovia. Dal prossimo mercato del martedì, quello del 20 febbraio, infatti si cambia. Tutti gli ambulanti saranno accorpati al San Decento, sia quelli del food che delle altre categorie merceologiche. Vediamo i pareri e le motivazioni verso questa scelta. Siamo nella zona del mercato alimentare di Pesaro dove appunto si terrà l'ultima giornata degli ambulanti in questa location poiché dal 20 febbraio saranno spostati a San Decento assieme agli altri stand, agli altri ambulanti del vestiario manterranno però comunque un'area dedicata agli alimentari e aumenteranno i parcheggi per i cittadini. È stato un lavoro fatto in un anno coinvolgendo le associazioni di categoria ma anche gli ambulanti stessi. Abbiamo fatto una serie di incontri in comune dove abbiamo capito che era importante riqualificare il mercato cittadino e in qualche modo dovevamo fare anche un'azione forte anche per la sicurezza. Quindi abbiamo pensato oltre al beneficio dei cittadini di avere un centro commerciale naturale all'aperto e quindi avere la possibilità di andare al mercato e comprare sia l'abbigliamento ma anche la spesa della settimana come fanno tanti cittadini garantendo comunque i parcheggi, anzi aumentare i parcheggi per i cittadini che si recano al mercato. In questo modo aumentiamo il parcheggio dalla parte del centro e quindi ci saranno 90 stalli che possono utilizzare gratuitamente per 90 minuti e anche a fianco proprio all'alimentare abbiamo pensato a 12 parcheggi per i disabili o per comunque le persone che vanno a fare spesa sapendo che la frutta e la verdura ha un costo. Alla fine questo spostamento, parliamo di uno spostamento di 200 metri, non è che parliamo di uno spostamento di chilometri o comunque vengono nascosti, anzi vengono valorizzati. Quando gli ambulanti ci hanno chiesto di poter accorpare è un inizio di un processo di rinnovamento del mercato stesso. L'accorpamento dà l'unità di intenti sia dalla parte del cibo, quindi del food, e dall'area del non food. Questo che cosa porta? Porta a far diventare questa piazza mercato. Questo sarà il primo degli altri interventi che chiederemo alla amministrazione comunale come quello di poter accorpare anche altri operatori e cercare di rendere più omogeneo il mercato stesso. Sì, finalmente martedì 20 febbraio avremo l'accorpamento del mercato alimentare ed extraalimentare ed è più fruibile per i cittadini perché comunque troveranno in un'unica area sia il food che il non food con 250 posti auto nel parcheggio nuovo che è stato inaugurato pochi mesi fa e qualche parcheggio con il disco orario per il carico-scarico della frutta. Gli ambulanti come hanno vissuto questa novità? Perché inizialmente ci sono state delle polemiche, che poi però probabilmente è bastato un po' spiegare quello che sarà la situazione dal prossimo mercato per ristabilire la quieta. Sì, all'inizio erano un po' diffidenti, però secondo noi il food lavorerà anche di più perché comunque prenderà anche le persone che gravitano nella zona del San Decento e che adesso perché abbiamo due mercati separati non vanno nell'area alimentare. Siamo d'accordo con questa cosa qui, quindi là sicuramente sarà anche più comodo per i clienti, perciò è una cosa che siamo favorevoli. Noi sicuramente siamo positivi che pensiamo in bene, speriamo che giustamente sarà il problema i primi martedì, che la gente non sa dove sei, dove non sei, però io penso che dai è tutto un continuo tra l'abbigliamento alimentare, speriamo che funziona, noi ci speriamo solo quello. È molto piacevole perché essendo più unito, la gente anche se deve ricambiare le cose che magari non vanno bene, è più facile ritrovare la bancarella perché è più unito, noi siamo più popolari, siamo più uniti, quindi ci piace un mercato molto unito. Anche per le banche che ci sono è un bene, perché la gente che gira a avere le verdure e poi guarda e poi questo lo compro, poi lo compro, invece essendo là tanti si fermano là e non fanno il giro. Invece qui obbligati va bene anche per tutto il mercato. Ieri è stata la serata di Consiglio Comunale a Pesaro che ha segnato un passo significativo sull'allargamento della sanità privata nella nostra città. È infatti arrivato l'ok per trasformare da RSA ad ospedale con 80 posti letto il complesso sociosanitario di Villa Fastigi. In Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la delibera per la riqualificazione di parte degli edifici della struttura sociosanitaria di Villa Fastigi in via Provini in un vero e proprio ospedale privato riconducibile al gruppo GVM del Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Un cambio di destinazione d'uso per circa metà del fabbricato volto a creare una sorta di Cotignola 2 a Villa Fastigi con un'adegenza chirurgica da 80 posti letto, blocco operatorio, terapia intensiva e ambulatori. La riqualificazione consiste nella realizzazione di una nuova struttura ospedaliera con la previsione di un nuovo blocco operatorio, la terapia intensiva, l'area di diregenza chirurgica per 80 posti letto, la ditta proponente e il Maria Cecilia Hospital. Il cambio di destinazione da RSA a ospedale interessa solo una parte del fabbricato e nello specifico sono 3060,80 metri quadri da destinare a ospedale. La variante consiste nel cambio di destinazione d'uso per parte del primo edificio e la parte del piano terra del secondo edificio per 140 metri quadri e non è previsto un incremento di cubatura. Dunque una delibera approvata all'unanimità ma che da Lorenzo Luglia, Dario Andreoli fino a Lisetta Sperindei ha esternato varie riflessioni ideologiche su un'iniziativa privata che avanza laddove la sanità pubblica stenta a tenere il passo. Consiglio comunale di ieri che ha toccato anche un altro argomento riguardante proprio la zona di Villa Fastigi. La scorsa settimana vi abbiamo infatti mostrato la preoccupazione per la vendita di terreni agricoli di strada in sala destinati a maxi impianti fotovoltaici. Ieri il Consiglio dopo acceso dibattito ha ottenuto tramite il consigliere Luca Pagnoni di Dario l'impegno da parte del sindaco per ottenere una mappatura di siti idonei o menodionei ad accogliere impianti di questo tipo. La prima settimana di raccolta differenziata nel centro storico di Pesaro attraverso le eco-isole informatizzate ha registrato 8.000 accessi nei 23 cassonetti intelligenti disposti nella ZTL. Oltre 1.000 al giorno, questo il bilancio di Marche Multiservizi che sottolinea la soddisfazione della risposta della gente ma anche il disappunto e le perplessità per vedere ancora abbandoni di rifiuti in centro o accantonamenti come ci fosse ancora il porta-porta. Per accedere alle eco-isole occorre disporre della carta Smeraldo e finora l'hanno ritirata in 5.500, ovvero l'85% dell'utenza interessata. Per chi invece ancora non l'avesse fatto può mettersi in regola ritirando la carta allo sportello clienti di Marche Multiservizi in via Mario del Monaco. Non si ferma la protesta dei trattori dopo 5 giorni di presidio al casello autostradale di Pesaro che hanno contrassegnato la scorsa settimana. I manifestanti si stanno organizzando per un nuovo presidio, questa volta al casello di Fano, da giovedì a sabato. Infatti i primi provvedimenti governativi non accontentano la categoria che vuole continuare a lottare per un'equa retribuzione dei loro prodotti coltivati. A Pesaro sta prendendo forma la palestra di Via La Marmola, edificio sportivo che andrà a completare il polo scolastico di Pantano. Oggi si è stato il sopralluogo dell'assessore Alfare Riccardo Pozzi per monitorare un intervento da 3.200.000 euro che regalerà all'Istituto Oliviera al Quartiere 12 un nuovo impianto sportivo. Tema analogo a Fano dove dalla prossima settimana scatteranno i lavori della provincia di Pesaro Urbino al campus fanesi per un investimento da 2.700.000 euro con fondi PNRR. L'operazione prevede la realizzazione del campo da rugby in erba artificiale omologata dalla federazione insieme alla riqualificazione delle aree per l'atletica, il rifacimento della pavimentazione della pista e delle pedane del salto in alto e salto in lungo. Verranno anche realizzate due tribune da 160 posti e un blocco spogliato ai servizi con infermeria, magazzino e locale tecnologico. Il progetto prevede anche il rinnovamento della illuminazione delle torri Faro. E periodicamente tornano anche le segnalazioni di vandalismi dal quartiere pesarese di Vismara, in particolare nel parco di Via Basento, dove questa volta qualcuno ha rotto la centralina elettrica della pista polivalente. Il quartiere ha infatti segnalato il danneggiamento a vigili e comune ed è stata ripestinata la stessa centralina. Ed ora cambiamo argomento ed andiamo a vedere il ricco programma di iniziative e approfondimenti legati al progetto della Primavera della Legalità. Dal 17 febbraio fino alla fine del 2024 tornano gli eventi della Primavera della Legalità. Sono 43 gli enti coinvolti per questa settima edizione all'insegna dei temi della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Organizzando le iniziative sulla Primavera della Legalità abbiamo capito che cinque sono i temi più dedicati per la criminalità organizzata che sono la violenza, la povertà, l'umertà, il profitto e la scarsa resistenza ambientale. Queste sono le tematiche che in qualche modo rendono la criminalità organizzata forte. Cerchiamo con il nostro contributo di diminuire questa scarsa resistenza ambientale. Cosa significa? Che organizzare tante iniziative in un territorio significa rendere quel territorio più forte con maggiori difese sul tema della mafia. Quello che ho imparato in questi anni, che le posso dire, è che chiaramente il tema che mi ha organizzato non è un tema legato da alcune regioni italiane, è un tema che interessa tutto il nostro paese, anche e soprattutto le regioni del nord dove appunto circola tanta ricchezza e per questo per esempio una delle iniziative importanti a giugno avremo il procuratore generale di Ancona Roberto Rossi che ci parlerà proprio delle criminalità organizzate specificamente nel centro Italia quindi sarà una grande occasione anche per conoscere la realtà del nostro territorio. Anche la CGL partecipe e aderisce con delle iniziative che mettono al centro il tema appunto della lotta alla mafia con quello del lavoro. Sì, noi siamo partner della primavera della legalità dalla sua istituzione nel 2014 e ogni anno siamo contenti appunto di organizzare delle iniziative specifiche sulla legalità che negli anni poi è evoluto nel senso che la legalità viene declinata nelle varie iniziative su vari aspetti, quindi non solo sulla criminalità organizzata ma anche sulle varie forme di sfruttamento che per quanto riguarda noi attengono prevalentemente al mondo del lavoro. Quest'anno faremo un'iniziativa all'ITIS di Urbino dove saremo presenti noi e anche in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, l'Aste e anche il nucleo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro per parlare appunto della diffusione anche del fenomeno del caporalato negli altri settori della produzione, non solo in agricoltura, quindi con i ragazzi a partire proprio da dei casi che abbiamo seguito insieme ai lavoratori di alcune realtà che si sono sviluppate negli anni in questo territorio. Poi faremo un'iniziativa sul caporalato in agricoltura a luglio a Mondavio con un nostro esponente nazionale della Flai CGL, la categoria che si occupa appunto dei lavoratori dell'agricoltura e poi anche quest'anno confermiamo il campo della legalità a Isola del Piano, nella struttura della fattoria della legalità, nel bene confiscato alle mafie che appunto è Isola del Piano dove appunto ci sarà uno spettacolo teatrale importante su sempre il tema della criminalità organizzata. E oltre a questo abbiamo riperto con alcune scuole medie e anche superiori della nostra provincia a un'azione o comunque una presenza nelle scuole con i ragazzi per parlare appunto di diritti e doveri del mondo del lavoro che si svolgerà lungo l'arco temporale di questa stagione, di questo anno scolastico. Oggi è martedì grasso, una data che tradizionalmente segna il termine delle celebrazioni carnivalesche, ma non per tutti. C'è chi festeggerà anche domenica prossima come ad esempio il carnevale di Villa Fastici mentre nella domenica appena trascorsa non c'è stato solo il carnevale di Pesero ma anche ad esempio quello di Montecchio in una domenica di assoluta partecipazione e divertimento. È una trentina d'anni che si svolge questo grande carnevale a Montecchio di cui nessuno sa niente a Pesero ma in realtà a Montecchio è una tradizione molto bella. Ci sono un sacco di carri ancora qui si fanno, un sacco di mascherate, tutto frutto del lavoro volontario di tante persone, tanti genitori, dei bambini del catechismo che i coordinati dalla parrocchia, dai responsabili della parrocchia di Santa Maria Assunta per tante sere hanno lavorato insieme anche ai loro ragazzi per tutto questo, per una festa che riunisca tutti nella gioia di stare insieme e anche nel non prendersi troppo sul serio. Montecchio è il cuore di un'area di oltre 50.000 abitanti come cerco sempre di raccontare che riguarda più comuni ma è una piazza importante, qui siamo in Piazza della Repubblica vicino alla chiesa che è una chiesa che è un punto di riferimento per tutta questa vallata e è un luogo anche di divertimento perché insomma c'è stato un periodo di un paio d'anni con il Covid che le persone erano costrette forzatamente di stare a casa, oggi sono le famiglie, sono le persone giovani, sono i carri che hanno lavorato, non ha paragoni con altri carnevali in giro per l'Italia, però c'è tantissima gente che partecipa, si riapre una fase diciamo di socializzazione, di rapporti tra le persone e anche di comunità. E si conclude Rossini News ma non si chiudono gli spazi informativi di questo martedì sera perché subito dopo il Tg a partire dalle 20 vi mostreremo lo speciale realizzato da Paolo Pagnini all'Università di Urbino in occasione di Università Aperta, le giornate di Open Day che presentano le offerte formative dell'Ateneo Urbinate, come detto appuntamento dalle 20. E poi il martedì sera è la serata di Amministrando il nostro focus d'approfondimento in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. Questa sera ci concentriamo sul comune di Fano, nelle confronte tra Stefano Marchigiani, consigliere comunale e capogruppo di Azione Fano e Loretta Manocchi, coordinatrice di Fratelli d'Italia Fano, amministrando questa sera alle 21.20 condutta da Antonio Astuti. Mentre sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi a tenervi compagnia domattina con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini, appuntamento informativo che come sempre vi trasmettiamo in diretta dal lunedì al sabato a partire dalle 7.20. Si conclude invece qui lo spazio informativo di Rossini News e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.